Prende un palo, insegne prima del gol del rigore, veramente Andano ci si salva, prende un palo con Pedagna nel finale, ancora Politano, ma il Napoli aveva giocato, aveva avuto un'occasione nel primo tempo con Zelischi, un'altra con Lozzano. Ragazzi, qua siamo davanti a un furto, un furto bello e buono. Poi il Napoli la prima mezz'ora aveva giocato Maluccio, non male, aveva giocato statico. Aveva giocato poco propositivo, era là, aspettava che succedesse qualcosa. Il Napoli del primo tempo, ecco, non c'ha gioco, questo vogliamo dirlo, lo dobbiamo dire. Mario Rui buttato su quella fascia, io non l'ho capita caro mister, te lo giuro. Però poi ti salvo su tutto perché il Napoli ha cominciato a giocare dalla mezz'ora in poi e se già nel primo tempo siamo 1-0 noi non abbiamo rubato niente. Addirittura quei due menagrano di Bergomi e Caressa hanno detto che meritava il Napoli almeno il Pariggio e per dirlo loro credo che veramente siamo proprio alti come situazione. Detto anche dagli interisti, insomma, Napoli ha dominato 90 minuti alla fine di questa partita, cioè dobbiamo dirlo, Lukaku non prende palla. Assolutamente. L'Ullautaro non prende palla, a un certo punto si butta e l'arbitro non lo ammonisce con una simulazione vergognosa. Scrigna andava espulso, Barella andava espulso, cioè ragazzi ma che cosa stiamo vedendo? Caro Presidente, dove sei? Qua non basta Giuntoli, non basta neanche Gattuso, qua serve il Presidente, il Presidente deve sbattere i pugni, un arbitraggio vergognoso, Bacaiocò non fa neanche fallo e viene ammonito, Insigne, io ripeto, ha dovuto bestemmiare i morti per essere espulso in un momento così importante. Io ve lo giuro, ma non perché dobbiamo difendere il Napoli, ma oggi io vi giuro, spero che il Presidente prenda delle posizioni. Ma lo deve fare, perché ripeto, non serve Giuntoli, non serve Gattuso, non serve niente, serve che De Laurenti si svegli da questo sonno profondo che purtroppo va dalla terza giornata di campionato quando dovevamo affrontare la Juventus. Per me è così. Poi ripeto, possiamo andare a cercare il pelo nell'uovo, Insigne non deve fare delle cose, Ospina e Coulibaly sul calcio di rigore, un po' male, però io voglio rivederlo. Per me c'è fuorigioco tutta la vita di Gagliardini, non lo so. Alberto Caccia. Ciao Francesco, buonasera ai nostri telespettatori. Sono amareggiato, non per la prestazione, perché il Napoli, a mio avviso, se c'era una squadra che doveva uscire con la vittoria, con i tre punti da San Siro, quella non era sicuramente l'Inter, ma il Napoli. Sono amareggiato per questo arbitraggio, senza voler trovare giustificazioni, comunque al risultato finale. No, ma bene, insomma. Io parto da una gestione dei cartellini pessima, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando all'Inter è concesso praticamente tutto. Il povero Lozano credo che debba fermarsi in infermeria al fianco di Mertens. Speriamo che non arrivino brutte notizie anche per quanto riguarda... Sì, sembra una brutta distorsione alla caviglia. ...il Belga. Però davvero è una gara assurda, perché quel momento, quel calcio di rigore, quell'espulsione così assegnata, cambiano totalmente la storia della gara. Una storia della gara che poi non viene cambiata anche per sfortuna, perché il Napoli mette sotto l'Inter in dieci contro undici. Mamma mia, in dieci abbiamo avuto un'altra occasione. Due occasioni, il Palo, la Paratuna. Il Palo, Politano. Sì, la parata poi di Andanovic. A questo Napoli stasera, al di là della sconfitta, che purtroppo per il momento è un po' pesante, per le primissime posizioni, però non c'è da recriminare nulla. Spero vivamente in un intervento della società, che si faccia sentire, perché l'arbitraggio di stasera è stato vergognoso sotto ogni aspetto e soprattutto anche un po' quasi provocatorio, mi permetto di dire. Come al solito, come al solito. L'episodio di Bakayoko è lampante. Arriva la prima munizione per l'Inter. Tempo 30 secondi. Un falletto, nemmeno un vero e proprio fallo, di Bakayoko viene contrassegnato col giallo. Purtroppo comprendo anche il nervosismo eventuale di Insigne, che però per essere espulso da capitano, che va a interloquire con l'arbitro, deve aver fatto una minaccia. Deve aver dato una minaccia, bravo. Di pesantissimo. Spero vivamente che questa gara possa ricaricare gli azzurri ancora di più e non essere, fra virgolette, una mazzata fra capo e collo, perché il Napoli, signori cari, questa sera, se c'era una squadra che doveva uscire vittoriosa da San Siro, era sicuramente il Napoli. L'Inter fa un tiro e mezzo, uno è sul rigore. Complimenti alla prestazione del Napoli di Gattuso, a parte i primi minuti iniziali, ma attualmente, purtroppo, il risultato dice questo, è davvero un peccato e c'è davvero l'amaro in bocca, una sconfitta immeritatissima. Allora pare che Gattuso sia andato a fischio finale a lamentarsi con l'arbitro, ma ormai i giochi erano fatti. Ripeto, Bergomi, alla fine, anche ha detto che il Napoli meritava il pari. La tabella di possesso palla, 58 per il Napoli, parate da parte dell'Inter, 4, 2 decisive, tiri totali del Napoli, 10 contro i 4 dell'Inter, tiri in porta, 5 del Napoli, 2 dell'Inter, poi tiri da fuori 4, 1 dell'Inter, 5 tiri in porta nell'aria, 2 dell'Inter. Insomma, ragazzi, dai, veramente... Io non lo so, ma si può dire di tutto, perché, ripeto, i primi 30 minuti del Napoli non mi sono piaciuti, insomma, però, ragazzi, veramente incredibile. Intanto tentiamo di capire anche cosa si sia fatto Mertens, per ora non ci sono notizie ufficiali. Il Napoli perde il secondo posto, adesso è quarto, dietro l'Inter, perché, comunque, si mette a un punto al Milan, perché poi ho perso un po' i risultati finali, mi pare che il Milan abbia pareggiato, alla fine, proprio nei minuti finali, l'abbia recuperata, quindi, praticamente, l'ha salvata, la Juve aveva pareggiato, poi Fiorentina sa solo 1-1, Genoa Milan 2-2, la Sampdoria ha vinto col Veruna 2-1, l'Inter ha battuto il Napoli, Parma-Cagliari 0-0 e Spezia-Bologna 2-2. Vai, dimmi, scusami. La classifica, per il momento, dice che il Napoli è quarto, a pari merito con il Sassuolo, ricordiamo lo scontro diretto, però, vinto dal Sassuolo. L'unica cosa preoccupante di questa parte iniziale del campionato, anzi, ormai, siamo già dopo 12 giornate, con 11 gare giocate, il Napoli ha perso tutti gli scontri retti con le dirette concorrenti, a parte la Juve a tavolino, e la Roma è l'unica che ha battuto la Roma. Sì, se vogliamo considerare, per il momento, anche la Roma nel novero delle dirette concorrenti, è l'unica che ha battuto. Per il momento, Milan, Sassuolo e Inter ci hanno battuto, ma quella di stasera è una gara che, secondo me, purtroppo, ricorderemo a lungo, perché è davvero assurdo, ciò che abbiamo visto questa sera, soprattutto nella ripresa. Va bene, allora, dovremo avere anche Massimiliano collegato, che ha fatto anche il pre-partita con noi. Max, ci sei? Max mi diceva che non mi sentiva, vediamo adesso se riusciamo. Max, mi senti? Non mi sento. Max? Ci senti? Massimiliano? Allora, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Io veramente sono molto arrabbiato, sono molto arrabbiato, io perciò chiedo che dei laurenti si facciano sentire, perché, insomma, è troppo tempo che non parla, eh. Andano ci dice che potevano vincerla loro, gara bloccata e decisa da un episodio. A Sky Sport era una partita equilibrata, molto tattica, nessuno delle due voleva scoprirsi, questo è vero. La partita è stata decisa da un episodio, poteva finire anche a favore loro, ma alla fine ce l'abbiamo spuntata noi. Non credo che ci siano alti e bassi nelle prestazioni e che ci sono sempre stato, parla di lui. Io sono il capitano, l'uomo che mette la fascia, anche nei momenti brutti, il portiere a volte deve portare ai punti a casa, questa vittoria è molto importante. Scudetto, la parola scudetto possono dirla in tanti, però bisogna dimostrarla sul campo e oggi non credo che l'Inter lo abbia meritato. Riusciamo a recuperare Max? Vediamo un attimo, eh. È caduto, allora forse si sta riconnettendo. Fra pochissimo riapriamo le linee, anche perché voglio sentire i tifosi, vi chiedo di essere brevi, non so se hai qualche commento. Abbiamo Max? Max, eccoci qua. Ah, finalmente, dai. Vai Max, voglio sentire la tua, dai. Allora Francesco, buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri spettatori, un saluto da Alberto. Vai, 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 vai. Sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto tu. C'è da dire che il Napoli ha regalato il primo tempo all'Inter non giocando. Una posizione inspiegabile quella di Mario Rui, anche tatticamente. Però la partita si era messa, diciamo, sui binari degli scacchi. Più che Conte e Gattuso sembravano Kasparov e Karpov. Sì, ma questo sono d'accordo, questo sono d'accordo. Una partita senza ritmo. Dopodiché già nel primo tempo si era intravista la linea arbitrale. Ha lasciato correre tantissimo anche quando non era il caso. Un arbitraggio finto inglese perché sì, in Inghilterra fanno giocare, però poi dopo il fallo volontario, la scorrettezza volontaria comunque viene sanzionata e viene pulita. Invece Massa ha lasciato correre di tutto nel primo tempo. Il secondo tempo è cambiato un po' il registro. Quando il Napoli comunque è riuscito ad alzare la squadra di 20 metri a mettere pressione alla linea difensiva dell'Inter, ha preso in mano il centrocampo definitivamente, ha avuto la grande occasione con Insigne. Fino a quel momento non pervenuto Insigne. Poi c'è l'episodio magico, c'è l'episodio del rigore. Entra Sensi, dopo neanche un minuto prova il tiro, un rimpallo, non si riesce bene a capire anche perché se ne sono guardati bene del farci vedere un replay. Bravo! Sì, altra cosa vergognosa. Quindi non si riesce a capire se sia fuorigioco o meno quello di Darmian. Il fallo cecio è tutto Sì, sì, l'ho detto anche io. Però, francamente, bisogna capire un attimo quella palla come è arrivata lì. Se l'ha deviata un giocatore del Napoli, se invece è stato un passaggio diretto, se Darmian al momento del tiro già era in fuorigioco. Questo non è dato saperlo perché Sky ha pensato bene di soprassedere su questa situazione e di far vedere la parte finale, quindi soltanto il fallo sullo spinner. Il Napoli, purtroppo, spiace dirlo, si è svegliato negli ultimi 10 minuti, si è svegliato quando si è ritrovato con un uomo in meno per una follia di insignia perché, francamente, Francesco... Però, Massimo, io devo sapere che gli ha detto, cioè, Max, qua siamo, cioè, gli deve aver bestemmiato i morti perché c'è solo così... Francesco, sembra... Max, no, non si espelle, cioè, hai dato calcio di rigore alla squadra avversaria, non lo sai se è fuorigioco come pure tu stai dicendo, se senti pure che ti mandano a fanculo non puoi assolutamente espelle. Dai un giallo, hai ammonito spina, non si ammonisce mai un portiere che sta su quella palla perché c'era Coulibaly accanto, dai, per favore, dobbiamo, noi dobbiamo essere, dobbiamo essere giusti, dobbiamo essere giusti, poi facciamo anche i tifosi, ripeto, ma noi dobbiamo essere giusti, ripeto, se lo ha mandato a quel paese non è mai russo, mai, ripeto, deve avergli bestemmiato i morti, solo così, cioè, deve aver detto un bestemmione, o avergli detto un venduto, qualcosa del genere. Bravo, ho venduto un bestemmione per il russo, dai, cioè, non è che stai in mezzo al campo e senti sei uno strrr, e allora lo butti fuori, stai avendo un calcio di rigore, non vai a vedere al VAR, non senti il check, dai, sei in mala fede, caro Massa. Francesco, anche perché, sicuro, la linea arbitrale era quella, però, come ti stavo dicendo, sembrerebbe che dall'abbiale in signe abbia detto testuale il dialetto Fallom. E Fallom, dai, ma è espulsione Fallom. E' anche un cultore della lingua napoletana, allora l'articolo. E Massa, sai il napoletano, allora, dai, Fallom, non ci voglio gridere, ti prego. guardialine a Pechino conosciva il macedone. E ho capito, allora ditemelo, allora dite che era tutto premeditato, è tutto preparato, è tutto preparato, ragazzi. No, ma Francesco, oltre al danno pure la beffa, perché in signe è capitato, senza Mertez, senza in signe, sono due giornate. Bravo, ho paura che sono due giornate per il signe. È capitano, sono due giornate, è per bravo. Quindi, oltre al danno anche la beffa. Diciamo che gli arbitri si sono portati avanti con il lavoro anche per la prossima di campionato. Comunque, paradossalmente, Francesco, il Napoli in dieci gioca meglio e il Napoli in dieci negli ultimi dieci minuti ha le tre occasioni da gol più grandi di tutta la partita. E questo è il rammarico più grande, perché se il Napoli il primo tempo, invece di accettare la partita sotto ritmo voluta dall'Inter, avesse schiacciato sull'acceleratore, i risultati sarebbero stati diversi, perché noi abbiamo visto un grandissimo Napoli negli ultimi dieci minuti. Sarà stata la forza della disperazione, sarà stata la forza di voler recuperare una partita che giustamente si sono sentiti rubata, sarà stato quello che sarà stato, però il Napoli degli ultimi dieci minuti Mi dicono di un Gattuso arrabbiato a Sky, ma ripeto, non deve parlare Gattuso, deve parlare il Presidente, deve parlare il Presidente. Oggi De Laurentiis deve andare, deve chiamare pure a Sky, telefono, e dice guardate io voglio parlare, perché così si fa oggi, oggi si fa così, poi non lo so, vabbè, comunque dai. Allora, vorrei aprire le linee, lo so che sarete arrabbiati, vi chiedo di essere brevi, tutti, perché se no veramente dobbiamo andare al tassativo, no? Adesso? E allora andiamo al tassativo così poi continuiamo lungo. Siamo tornati, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche su Facebook, anche su Facebook siete scatenati, io capisco, insomma, non è facile, qualcuno dice il Napoli voleva portare a casa il punto e forse pure l'Inter era contento di questo risultato, dobbiamo dirlo, però ragazzi, un punto forse oggi sarebbe stato perfetto anche perché il Milan pareggia, la Juve pareggia, cioè insomma domani vediamo la Roma che fa, però sarebbe stata un risultato comunque importante per il Napoli, è chiaro che poi l'occasione fa l'uomo ladro in questo caso e la vince. Sconfitta immeritata, ma è l'ennesima regalata da noi, sono quattro certe partite vanno segnate e chiuse subito, altrimenti nella prima occasione ci purgano, questo il messaggio di Luigi, sono fiero del mio Napoli, è stato il padrone del campo, il resto è anti Napoli. Andiamo al telefono vi prego di essere brevi ragazzi, pronto? Pronto? Pronto. Ciao Sergio, vai, 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 vai Sergio, vai, vai. Allora, una parola, rispetto, 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 petendo rispetto, come dicono. Da chi, da chi lo vuoi sto rispetto? Dagli arbitri. Eh non è sì, ma se il Napoli non parla, se il Napoli della Aurenti non è possibile arbitrare una partita in questo modo? lo so, lo so, lo so, ripeto, è vergognoso, è vergognoso sì, è vergognoso, 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 vergognoso. Lo pretendo il rispetto come tifoso e come amante del gioco del calcio. Beh, hai ragione. come l'hai vista invece poi la partita al di là degli episodi? C'è stato qualcosa? Il Napoli del primo tempo ha giocato una partita di attesa, molto attenta a non sbilanciarsi così come al pari ha fatto l'Inter. Sì. Ognuno cercava di corrido il giusto al momento giusto. Una partita a scacchi, diciamo, una partita a scacchi. una partita tattica, veramente una partita a scacchi. Ognuno faceva attenzione a non perdere palla, la partita chiaramente risultava lenta, noiosa perché non si può pretendere che una partita tattica diventi anche brillante. È diventata brillante nel momento in cui il Napoli ha reagito nel secondo tempo. Sono d'accordo con Max. Sì. Allora, grazie Sergio. A domani. Allora, Marocchi a Sky dice forse a fine stagione diremo che questa gara ha deciso il campionato. Addirittura. Le espulsioni di insegna è perché il capitano vede la squadra giocare bene e andare sotto. E che significa? Quando arrivi a questi scontri diretti conta solo il risultato e dietro questo escono fuori la motività delle squadre. Una gara non bellissima giocata a fase alterne, un ritmo basso, un grande, poi dice una grande partita. insomma, non lo so, vabbè, comunque. Marocchi, però, alle volte non lo capisco, Bucciacchini, Francesco, scusami. Senza la ritmo, senza ritmo, la tecnica degli azzurri emerge. Vabbè. Dimmi, 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 dimmi. No, dico, quella di Marocchi è una supercazzola. Sì, sì, è la tipica supercazzola. Cioè, che cosa ha detto? Niente. Ma vabbè, anche Bistocchi, mi dispiace, che è sempre attento alle cose arbitrali, dice l'Apoli a larghi tratti, meglio dell'Inter, un po' di fortuna. Ti dico una cosa nel frattempo, perché Gattuso sta parlando a Sky. mi hanno detto che è arrabbiato. E ha messo, praticamente, ha detto, l'ho sentito, praticamente in signe, ha mandato a quel paese l'arbitro, dicendo proprio l'ha mandato in questo posto. Sì, se vuoi te lo leggo, se vuoi ce l'ho. Ok, ok. Se vuoi ce l'ho. Allora, ho detto a massa che due minuti prima dell'espulsione aveva fatto i complimenti al capitano del Napoli e poi lo butta fuori perché lo manda a cagare. Queste cose succedono solo in Italia. In Inghilterra se dici fuck off gli arbitri non ti fanno niente. Noi abbiamo creato molto di più. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori perché manda a cagare l'arbitro dopo un rigore dubbio. Ha ragione. Bravo. Vuoi dire che è un permaloso e che questo lavoro non lo capisce. Stiamo giocando tanto una parola può scappare. Solo in Italia si buttano fuori i giocatori per queste cose qui. Allora io quando giocavo cosa dovevo fare. Una partita sì e una partita no. Un vaffanculo dopo un rigore ragazzi. Ci può stare. Uno deve avere l'intelligenza e il tatto di capire che ci stiamo giocando tanto. Non può far rimanere una squadra in dieci. Cosa ha detto in signa all'arbitro e gli ha detto vai a cagare. Questo sarebbe stato. L'ho buttato fuori e noi ci lecchiamo le divise e noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che mi invento io. Io ci ho giocato i scozi e se dici fuck off non succede nulla. Vabbè insomma questa è un po' la stessa cosa che aveva detto prima. Non so se ha parlato ancora almeno per ora no. Solo in Italia ti cacciano. Insomma non vedo altre dichiarazioni per ora. No insomma non ce ne sono. Sì il rigore c'era e lo sto dicendo anche molti amici stanno scrivendo così. A Morata dice Salvatore gli hanno tolto una giornata disqualifica vediamo se lo fanno anche noi. Figurati. Morata non era capitano. Brava. Poi Napoli orgoglioso di te ha giocato bene scrivere Schiavitelli Enzo gli arbitri sono terribili Luigi Rispoli ci manda anzi Leoni da Rispoli ci manda anche una come dire pagella mettendo addirittura otto a Coulibaly che non ha mai fatto giocare Lukaku sono d'accordo tutti i voti molto positivi dicendo che Massa è stato scientifico sconfitta immeritata ma è l'ennesima regalata l'avevamo letto Maurizio scrive vergogna Roberto vergogna vogliono far vincere lo scudetto all'Inter il Napoli dove voleva voleva portare il punto a casa grande Napoli ha gestito tutta la partita Domenico il Napoli è destinato però a perdere Francesco Maschrini ha ammazzato Lozano non è stato neanche ammonito è stato ammonito ma nel 2020 neanche un rigore a favore questo figurati comunque se gli danno due giornate facciamo come la Juve e Morata si leva una giornata e si paga l'ammenda vediamo insomma come dice Max c'è il problema adesso dobbiamo metterci tutti intorno al Napoli tutti per forza ha giocato bene no ma non è il fatto di metterci intorno al Napoli perché non c'entra questo noi siamo sempre con il Napoli il problema è che abbiamo detto che questo Napoli forse di gioco ce lo siamo detti anche te Alberto durante la partita i primi 35 minuti anche se il Napoli aveva avuto pure un'occasione in questi 35 minuti aveva fatto sempre la stessa cosa palla indietro palla dall'altro lato palla di nuovo indietro si provava a trovare spazio non si prova mai l'unico che provava a saltare l'uomo è stato Lozano ma poco altro Max sei d'accordo? perché solo questo abbiamo visto perfettamente d'accordo perché poi abbiamo visto solo questo purtroppo abbiamo visto il solito giropalla è troppo inutile sterile esasperato anche quando c'erano degli spazi comunque non si è provata mai l'embucata per i primi 30 35 minuti un paio di volte si è provato a premiare il taglio di Lozano ma sempre in maniera molto approssimativa con dei lanci di Coulibaly fuori misura però ripeto Francesco io guarda stasera ti dico una cosa a differenza forse di come può sembrare io penso che i pareggi che ci sono stati con la vittoria con i tre punti sono mezze sconfitte anche per loro perché alla fine il Napoli ha perso un punto beh però ne ha persi due sull'Inter ne ha persi due sull'Inter ma l'Inter non è però secondo me la squadra su cui il Napoli deve fare la corsa ti dico proprio la verità Alberto e poi c'è il ritorno in casa ma questo sì però nel frattempo questa gara come dicevo in apertura non so se mi sentivi spero che in qualche modo possa ricaricare e possa dare ancora di più mordente quella fame che in certe volte soprattutto nel primo tempo di questa gara anche questa sera questa squadra non ha quindi spero vivamente che questo episodio negativo possa in qualche modo far fronte a una mancanza che c'è questa squadra al di là dei tatticismi delle scelte di Gattuso questa squadra non ha fame l'hai detto anche tu negli ultimi 10 minuti gli è venuta questa fame questa voglia di trovare paradossalmente il risultato con un nuovo in meno spero vivamente che questo risultato possa servire a questo anche questo episodio con l'espulsione di Insigne perché è l'unica chiave positiva che trovo questa sera oltre al fatto che comunque come dici tu nel campionato dei tre punti certi pareggi come sono stati questa sera per Juve e Milan per fortuna possiamo dire per noi sì per noi perdiamo un punto solo sulla Juve e un punto sul Milan vediamo la Roma domani che fa la Lazio pure aveva pareggiato no? quindi tutti i pareggi oggi era la giornata perfetta dei pareggi a noi sarebbe andata di lusso perché pareggiare a Milano poteva essere positivo per noi non ci va così ripeto c'è da capire perché il Napoli non gioca subito in un certo modo allora scusatemi ma fermo ancora vi fermo ancora perché Gattuso finalmente parla anche di calcio allora dopo l'espulsione vi siete sbloccati gli chiedono è stata una partita tattica la mia squadra ha fatto una grandissima partita ha fatto ciò che doveva e anche qualcosa di più se stiamo a giudicare la partita meritevamo più noi che loro ma i gol bisogna farli ora passiamo pensiamo alla Lazio di questa gara rimane solo la prestazione del VAR già abbiamo detto o si buttano fuori sempre i giocatori quando dicono vaffanculo o no come sta Mertens distorsione alla caviglia un mesetto siete d'accordo? un mese un mese nella ripresa la gara si è sbloccata anche il primo tempo è stata una partita di livello io ho conto abbiamo fatto diventare brutta forse a livello tattico ma nel secondo tempo le cose ne sono cambiate riuscivamo a trovare le giocate abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con Mario Rui che teneva la quinta posizione avanti poi questa ce la facciamo spiegare da Mr. Daniello durante la nostra costruzione a tre l'Inter a gran forza fisica noi abbiamo sofferto poco oggi secondo me anche se provavamo a far gol con le mani non ci riuscivamo abbiamo avuto tante palle gol ancora su massa diciamola fa sempre la stessa cosa anche io mi prendo i vaffa in allenamento perché non fischio un fallo ma ha ragione insomma ha pienamente ragione insomma è per maloso ma è come tutti gli arbitri italiani per malosi e scarsi per malosi e scarsi non c'è nulla da fare con questi arbitri che non c'è un ricambio sempre per malosi sempre scarsi sempre per malosi sempre scarsi va bene qualcuno dice oggi ci hanno voluto fermare in dieci Armando dice il Napoli poteva anche vincere arbitro indegno dice Armando Inter ha un grande portiere e per questo anche il Napoli non vince vabbè ragazzi ma anche Ospina Ospina non ha mai parato nulla che doveva fare sull'uscita poteva uscire meglio no credo che in quel momento in quel caso con quella posizione con Coulibaly che era comunque e che era di fianco no credo che l'uscita di Ospina sia stata sia stata giusta non credo abbia sbagliato i tempi sinceramente non vedo che Max è d'accordo anche con me sì siamo d'accordo andiamo al telefono dai andiamo ancora al telefono pronto pronto buonasera ciao Ciro buonasera a te ciao Ciro allora diretto io sinceramente non ho nulla da dire magari l'unica appunto da fare è che forse Napoli poteva essere prima più diciamo intuitiva sia un po' rispecchiato nell'andamento della partita ma il Napoli ha fatto un'ottima partita alla pari anche superiore all'Inter poi c'è quell'episodio e poi abbiamo detto ci vogliono gli uomini tu dopo il rigore non puoi regalare anche un uomo e l'ha fatto il capitano cioè quando noi chiamiamo e pure voi piangete ma perché quello non è andato a protestare ma perché quello non ha fatto questo e tu viste che succede e cioè sinceramente nel momento ripeto l'ha detto anche Gattuso se tu mi esplendi per un baffa ma nel momento che c'è un rigore massa fino a quel momento non ha ammonito nessuno forse solo Bocayoko e Skrignar l'aveva ammonito una partita c'è dove ha lasciato correre c'è cazzo russi insignia qualcosa ritta e quindi tu nemmeno il capitano puoi fare perché a Milano tu non puoi dopo un rigore quindi già sei penalizzato il rigore c'è tutto è un episodio perché la partita era equilibrata ma c'è stanno 20 30 minuti 25 minuti non puoi lasciare la tua squadra in 10 non pazziamo perché un'altra si è vista la reazione che ha avuto che non si avrebbe pareggiata e qui si devono tagliare i rami secchi come ha detto sempre Massimiliano e anche stasera purtroppo purtroppo è l'ennesima dimostrazione ma voi sapete quanto io voglio bene a Mertens ma Petagna ha fatto un po' tra uno eh lo so però il problema è Petagna però può giocare a 70 metri rapporto capito non c'è il fisico per poi tornare si ma se io vedo l'ultima partita di Mertens si preferisce Capetagna si ho capito va beh però ripeto ripeto ma non me ne voglio Mertens è a fine corsa va beh va beh comunque intanto e poi ripeto da capitano non punte da capitano hai ragione che non lo devi fare però se hai detto vaffanculo ragazzi lo diciamo tutti i giorni no ti ho detto ti rettene fuori e fanno buona cura eh vabbè comunque e fanno buona cura ma non caputino pigliare sempre con l'arbi se noi cosa cosa fai spello cioè tu non solo concedi ricordo fai il tappuro fuori ma perché alla tippate non succede perché hanno protestato eh questo pure è vero capito ma scusate vaffanculo ti rettene fuori ma non ne ho prima cioè non è che hanno pigliato solo l'insegno perché ciao ciao intanto vi dico vi dico anche l'amico Marco Bottino che saluto dice Bagaioco in Napoli Milan espulso per molto meno Brozovic doveva andare fuori ad inizio secondo tempo Marco ma doveva andare fuori Skriniar doveva andare fuori di Barella perché se tu mi espelli anche Brozovic se tu mi espelli in signa così devi buttarne altri tre dell'Inter poi dopo cioè ma il problema replay sparito bravo Francesco Romano delle bombe di Vlad che saluto sparito il replay del VAR non si capisce perché non si fanno mai vedere un replay dove se mi tracciate la linea a terra e mi dite che Gagliardini non è in fuorigioco per me ragazzi qualcuno mi dice avvertimento per non andare avanti nel grado di giudizio contro la Juve e ragazzi ma no perché io poi quel punto l'ho avuto in casa se mi togli pure questo cioè ragazzi ma basta perciò dico dov'è De Laurentiis sul fuorigioco c'è anche nel primo tempo sullo Zano chi viene chiamato quel fuorigioco credibile incredibile quel brevissimo replay che abbiamo intravisto era nettamente in linea era nettamente in linea cioè ragazzi io allora diciamoci la verità allora se De Laurentiis perché è un bastian contrario è un innovatore lo sapete io non ho una simpatia così esagerata per il nostro presidente però se il problema è che De Laurentiis vuole andare contro il sistema perché è un innovatore allora veramente noi dobbiamo lasciare andare cioè perché se no qui usciamo non ne usciamo vivi io capisco che quest'anno si vuole riportare il Milan l'Inter in Champions e sono d'accordo che la Juve non può arrivare casomai nelle prime tre però ragazzi qua siamo allo scandalo cioè siamo allo scandalo dopo tutto quello che sta succedendo ripeto io oggi mi arrabbio con chi critica il Napoli perché il Napoli va anche criticato per alcune cose però oggi il Napoli meritava a meno il pareggio e ripeto Massa è scientifico insigne due giornate non gioca casomai con la Lazio e col Torino e così Mertens fuori Osimene non torna ci siamo tolti il Napoli da mezzo perché questo è un po' il giochino ragazzi non va bene su Mertens visto che mi chiedevi prima della distorsione ringrazio il dottor Gavezzani che ci segue da Modena lo salutiamo e mi dice dipende ovviamente dal grado di distorsione però si va da un minimo nel completo recupero quindi nel ritorno anche in campo da un minimo di quattro settimane ad un massimo di sette settimane mamma mia speriamo di no bisogna capire poi ovviamente il grado della distorsione un mese non sarebbe male anche se comunque ci sono due partite adesso poi c'è la Coppa Italia a gennaio poi ci sono due partite 3 e 6 si ne salterebbe quattro poi c'è il 20 c'è la Juve esatto fra meno di un mese mamma mia ragazzi in questo momento potrebbe esserci un rischio anche per la Supercoppa permette vabbè brutto 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 sperando che Cosimane recuperi allora proviamo a fare al volo un'altra telefonata pronto? caduta io ho letto un po' di messaggi anche sulla nostra diretta vediamo anche su Facebook lo so che siete arrabbiati ma siamo arrabbiati tutti pronto? si sono Mimmo ciao Mimmo allora mettiamo un po' di cose se qualcuno si aspetta che io stasera metta a parlare male dell'albito sbagliato palazzo nel senso che Ciro ce l'ha morto con Insigne vabbè allora Ciro ce l'ha morto con Insigne con che cosa doveva fare? forse un inciso dalla cabina ho sentito che due giornate perché il capitano io vi ricordo che questo Insigne stava in campo Morata la partita era finita è andato dietro e gli ha detto sei un figlio di puttana questo gli ha detto all'arbitro e la Biale lo ha fatto vedere per cui si hanno messo per quel fatto a fine partita già finita stavano andando a casa allora la treralina che c'è in campo non c'è quando è finita la partita o meglio non è un'azione di gioco premesso questo quindi il massimo i figli proprio sulla scorta di questo dovrebbe prendere un altro ma non è questo il ragionamento il ragionamento che io ti faccio faccio contente di 5 anni è dovuto al fatto che quando non appena alziamo un po' con la testa che forse d'unne che ce l'ha però Mimmo allora però aspetta noi però ci dobbiamo mettere d'accordo perché poi noi con Sarri sfioriamo lo scudetto ok non ce lo fanno vincere però qua ci stanno tenendo proprio sai quando ti trattengono quando sei in corsa e ti stanno trattenendo perché un punto in meno i tre punti alla Juventus la sconfitta di stasera quello che abbiamo visto in altre partite non c'è mai un calcio di rigore del Napoli è vero che il Napoli arriva poco in aria perché il Napoli questo ha il difetto che arriva poco in aria però ragazzi neanche un calcio di rigore mai cioè non è possibile capito cioè a me sembra che ci stanno trattenendo eppure l'Atalanta è morta oggi fa una mezza partita con la Juve la Roma gioca bene però quella è la Lazio si sta suicidando da sola così cioè praticamente ad esclusione arriviamo quarti cioè ad esclusione cioè rimangono Juve Inter, Milan e noi perché insomma o sei d'accordo no? Sì ma perché perché il calcio italiano e il suo insieme vedi la coerenza anche se tu metti la coerenza con le decisioni di la sentenza che è di Juve Napoli da parte dello sport e della Figgi e metti sullo stesso piano gli arbitraggi c'è coerenza di comportamento non è che è una cosa differente dall'altra uno conferma una sentenza che non esiste l'altra e questo è l'arbitraggio ma sa benissimo che nel momento in cui il potere di Inter Milan Juventus che esiste quando esiste il calcio sa benissimo che se l'arbitraggio lo interpreterà tutto al contrario domani se lo mangerò viva e fa la fine di Furnò tra l'altro Furnò mi pare che fosse all'Amoviola ma là non devi fare niente Mimmo là non devi fare niente devi dare il calcio di rigore lo dà Mimmo aspe aspe però dialoghiamo perché se no parli mi fa bene anche a me dialogare allora ti dico una cosa là dai calcio di rigore ok vediamo se il VAR ci fa vedere l'immagine della linea di Cagliardini se non è fuori gioco io alzo le mani perché quello è calcio di rigore lo tira a Lukaku segna basta senti qualcosa da insegne ti stai zitto non dici niente te ne vai e fai giocare 11 contro 11 con l'Inter in vantaggio può essere anche che non la pareggiamo mai perché noi non la pareggiamo forse però fai giocare non mi butti insegne fuori come dici tu da capitano come ha detto anche Max e quindi lo butti fuori per due partite prossime con Mertens che si è rotto cioè è questo capito è l'accanimento è l'accanimento ma dimmi una cosa allora allora ascolti un attimo sarebbe la cosa più stupida del mondo perché questi ragionamenti ce li stiamo facendo da almeno dieci anni allora quando vediamo quegli arbitragi stradalus le dobbiamo parlare subito dopo a me non mi sta bene io non ne voglio parlare più a me mi sta bene che mi vanti pure perché ha perso la destra però io non posso giocare con Skriniar e quei due in campo eh ma quello è il problema Skriniar va espulso Skriniar va su Lozzano e va buttato fuori anche se mi fai giocare cinque minuti dieci contro dieci ma me li devi far giocare là è rosso per Skriniar è netto ma il Skriniar il rosso è per sei volte sette volte otto volte cioè è ripetitivo lui fa falli ripetitivi senza palla Lozzano è stato letteralmente è massacrato ma il giocatore è rimasto in campo è senza palla sto parlando io allora il problema è e te lo non lo metti in testa il problema non è che domani mattina il presidente di Napoli si fa sentire da chi? da Agnelli da chi? da Gravina che è il ragazzo di Agnelli ma da chi si deve far sentire? Nel calcio italiano e poi di ratio la differenza tra il calcio europeo o mondiale e il calcio italiano è stato il fatto che gli arbitri all'estero tu vedi una decisione qualunque sia è perché è incapace cioè è in buona fede è incapace di aver deciso diversamente a Napoli in Italia le partite sono pilotate nel risultato e nel modo di impostare il campionato è pilotato quando invece una sfida diretta ma solo la partita vedi la compitata in Napoli si porta la compitata a casa perché non si può truccare la partita ma truccare a partita secca ma il campionato si pilota l'arbitraggio si pilota ma stasera arbitraggio io sono d'accordo con te con l'arbitra al 100% sul fatto che noi non riusciamo a capire un rigore che Spiglia ha fatto perché arrivate lì tanto sul piede ma che io possa vedere io fin dal primo momento ho detto è fuori gioco questo è fuori gioco sta un mezzo metro più avanti ebbene il VAR ha avuto la capacità di non farcelo vedere e non è la prima volta vedi Napoli-Milan subito dopo il Bacayoko ma io non voglio gli episodi che io racconto da 30 anni e degli ultimi 10 ne abbiamo visti in quella maniera lì stanno a significare che il calcio italiano come disse Agnelli e quella è rimasta ai tempi di Maradona voi laggiù potete fare un miracolo e poi è finita quando nel 90 abbiamo fatto il secondo miracolo lui non ci ha visto più dopo quella situazione qui ha detto per piacere rimettete la bottiglietta di Cassoso per se le ha unire pure se non sono sue lui questo fece Agnelli e dopo 30 anni ci troveva ancora in questa situazione allora il problema è domani vi sono tutti in giornale scandaloso ma chi se lo ricorda fra tre giorni o quattro giorni no nessuno a me mi fa paura una sola cosa che il Napoli è nella qualificazione quella a me mi ha dato proprio la botta finale è nella qualificazione delle coppe e successivamente la partita con la Sambetorio pur avendo la Sambetorio otto giorni di tempo per prepararla mentre noi avevamo giocato 72 aver portato i due risultati a casa io ho visto fare da tutti non salvo nessuno perdonatemi quattro e mezzo al Vito Renzo cinque c'è stato ma io ho fatto due puntate sulla criticità Mimmo grazie vado avanti perché se no non abbiamo non abbiamo ti voglio dare un dato su Massa dammi tutto dammi tutto Davide Massa sai qual è la squadra che ha avuto più espulsioni con Massa nella sua carriera? sì il Napoli eh vabbè ma figura Massa non arbitrava Massa di Torino questo signore sai qual è stata l'ultima gara che ha arbitrato Massa? no Fiorentina-Napoli 3 a 4 con quel regore di Zielischi stranissimo ma ripeto ma ragazzi questi arbitri sono scarsi e in alla fede tra l'altro Massa è un internazionale a fine carriera 39enne e non ci si aspetta cose del genere Bonanno di Sky sta con Gattuso sul Rosso Insigni a volte serve sensibilità e non ascoltare ecco bravo non leggo altre dichiarazioni ah Conte ecco qui allora ufficiale Infeortunio Mertens attenzione la conferma del Crab trauma distorsivo domani ulteriori valutazioni l'attaccante è uscito in lacrime è sostituito durante le sue condizioni verranno valutate domani distorsione alla caviglia speriamo non ci sia un interessamento di altro genere sarebbe terrificante ha parlato Conte a Sky gara brutta siamo stati fortunati ma questi punti valgono doppio vabbè come dire incazza e porta a casa che se ne frega vi siete esposti al possesso del Napoli gli chiedono e avete faticato a trovare Lukaku la strategia sia nostra che loro ma più loro perché non l'hanno mai cambiata era comunque quella di abbassarsi e coprire tutti gli spazi nella metà campo cercando di rubare palle e ripartire con lo Zani Insigni e dopo Petagna nel primo tempo abbiamo provato a prenderli altri ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate preparate Zelischi ci ha messo un po' in difficoltà dietro a Brozovic alla fine questo tipo di situazioni però ha pagato anche se alla fine siamo stati un po' fortunati con quel palo almeno Conte non piange stasera insomma vai guardavo contento il parrucchino vai guardavo nel frattempo il calendario ipotizzandole speriamo soltanto quattro settimane il minimo per Mertens salterebbe sette partite e rientrerebbe nella prima partita sarebbero tutte di campionato più una di Coppa Italia al 13 contro l'Empoli e poi ovviamente dovrebbe rientrare se sono effettivamente quattro settimane barra 5 per la sfida di Supercoppa che si giocherà il 20 speriamo ovviamente che però sia solo ed esclusivamente una distorsione magari del grado meno importante speriamo intanto ancora Marco Bottino mi manda una sequenza sul fallo di Zerischi ma lui là non ha neanche chiamato fallo su Brozovic che lo tira perché non ha chiamato fallo sembra una scena da Terence Hill e Pat Spencer quella è terribile là non ha chiamato neanche fallo vabbè allora un'altra telefonata c'è pronto? pronto vediamo se c'è caduta vediamo di recuperarla ci sono tanti messaggi perdonati ci sarebbe da parlare per ore Enzo da Pompei buonasera Francesco l'ha sempre detto l'arbitrage del VAR sono sempre contro di noi tanti falli su di noi il primo tempo nessuna munizione in signa ingiusta l'espulsione sono l'arbitro Massa non è un colpo al Napoli ha aiutato il Milan l'Inter e la Juventus allora andiamo al telefono pronto? pronto Bobo ciao Bobo ciao Bobo buonasera a te buonasera Marta buonasera mala serata mala serata sì mala serata ragazzi io saluto a tutti in studio c'è un'amarezza c'è un'amarezza gigante veramente grande grande quando Napoli perché non si può vedere uno spettacolo del genere con un albito del genere è bene che noi non dobbiamo fare diciamo i seri e non dobbiamo diciamo dire le parolacce agli altri però questo ce lo dicono proprio dalla bocca perché quello che è successo oggi è inguardabile cioè ecco adesso capisco perché fanno cambiare sport alla gente perché questi io sono pienamente d'accordo per tutto quello che ha detto Mimmo prima perché veramente guarda non si può più di questo spettacolo cioè il Napoli è andato là umile facendo la partita di accontentarsi perché poi noi 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 abbiamo una mitragliatrice in mano però abbiamo giocato come le cibottane dei ragazzini fu cioè noi noi abbiamo giocatori più di giocatori ma perché non lo facciamo prima questo gioco che se noi giochiamo bene gli diamo tre palloni se giochiamo dall'inizio e questa è la domanda che ci dobbiamo porre domani diciamo con calma ce la dobbiamo porre sì perché non abbiamo non abbiamo accelerato quando potevamo quando il Napoli quando l'Inter è sembrato anche arretrare poi poi un'altra cosa Francesco perché poi Insigne ha detto vicino all'albero vado a vedere il bar al momento in cui Massa ha detto no non lo vado a vedere l'ha mandato a cagare ho capito queste sono le parole questi invece hanno dicerveziato hanno detto diversamente hanno hanno detto bugie perché poi si arriva proprio all'inverosimile veramente cioè falsificano tutto allora non è più diciamo un calcio vero perché poi io a questo punto qua mi ricordo Diego quando diceva noi dobbiamo vincere contro tutti sì sì ma questo ecco perché lo diceva vabbè 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 Bobo grazie grazie della tua telefonata la marezza è tanta ragazzi no lo so lo so allora saluto anche Giacomo Borrelli mi rude tanto ci hanno fatto una rapina in piena regola concordo con te a DL dove sei questa è una delle tante beffe che ci andremo incontro che andremo incontro in questo campionato eh ma ragazzi però poi a questo punto se le beffe continuano bisogna trovare una soluzione bisogna capire che cos'è che non va perché ripeto io lo dicevo prima con Mimmo ragazzi Roma Lazio Atalanta ma anche se ci vogliamo mettere il Sassuolo non mi sembrano che in questo momento riescono a tenere anche il passo del Napoli ripeto che manca un punto è una partita non giocata davanti a noi possono ripeto possiamo arrivare quarti per come dire proprio perché siamo buttati dietro da questi qua perché Milan Inter e Juve si devono giocare lo scudetto perché la gazzetta dello sport deve scrivere deve scrivere scudetto a tre che ne so queste cose qua però dopo il Napoli ancora comunque è in vantaggio sulla Roma la Roma deve giocare la Roma ci potrebbe superare domani con chi gioca la Roma aiutatemi però voglio dire domani gioca col Torino speriamo che il Toro faccia almeno un pari però ripeto in questo momento dai insomma non mi pare che la Roma è nel Sassuolo nell'Atalanta nella Lazio la Lazio ragazzi rimane a 18 noi siamo a 23 più 1 24 quindi per questo dicevo vabbè allora Gianni Dalvomero direttore io sono arrabbato con Insigne perché il capitano non deve mai farsi espellere ma anzi doveva ma sì vado da Max ma doveva e sono sicuro che con lui in campo si pareggiava lo so che non si deve fare espellere il capitano però ragazzi se gli ha detto vai pure vai a cagare cacci il giallo dai il giallo e te ne vai Max no ma Francesco io stavo facendo un'altra riflessione invece il Napoli con le tre squadre che lo precedono in classifica ha perso tutte e tre volte e lo so capito sì lo dicevamo però ripeto una a tavolino una con con l'Inter stasera che veramente io non la posso mettere tra le sconfitte e con il Milan è l'unica che forse hai perso perché meritavi di averla persa eppure là se la pareggi non succede se la pareggi non succede niente no? non sei d'accordo? no dillo se non sei d'accordo hai perso pure hai perso pure col Sassuolo ma io l'ho detto ho detto in fase di presentazione di questa partita ragazzi il Napoli oggi se perde la quarta partita 3 più 1 rischia che già il campionato è comunque andato perché chi vince lo sudetto non perde mai più di tre partite quindi già sei alla quarta ok però ragazzi ne hai persa una a tavolino oggi questa è da schifo col Milan e con il Sassuolo ci possono stare ma nulla di più però Francesco il denominatore comune di queste sconfitte del Napoli sai qual è? che il Napoli ha regalato il 60-70% della gara a queste squadre perché quando poi dopo ha iniziato a giocare quando poi dopo ha iniziato a giocare da Napoli le ha messe in difficoltà e come giustamente dicevi tu la può pareggiare con il Milan la può pareggiare con il Sassuolo la può pareggiare stasera allora questa è un'altra domanda da porsi per quale motivo questa squadra regala sempre un tempo per quale motivo questa squadra ha delle esitazioni nelle partite che contano nelle partite importanti negli scontri al vertice mentre tu con la squadra la riesci a riprendere vedi la Sampdoria purtroppo la grande squadra no la squadra blasonata non ti dà l'opportunità di riprenderla anzi anzi se tu gli regali mezza partita la accetta molto volentieri ragazzi l'Inter stasera è stata una squadra ripeto che il Napoli in 10 contro 11 negli ultimi 10 minuti l'ha messa sotto l'ha massacrata io non ho neanche immaginato lo devi fare prima lo so lo devi fare prima questo dico io perciò io sono diciamo un po' deluso perché penso che il Napoli abbia tutte le carte regole per poter mettere in difficoltà chiunque allora parlato Coulibaly una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto la partita giusta con mentalità giusta dimostrando cose molto positive per il rigore ma siamo stati solidi e abbiamo anche creato abbiamo alzato anche il nostro livello di gioco quando siamo rimasti in 10 per questo ci dispiace veramente non averla pareggiata come hai vissuto l'espulsione in campo si dicono tante cose lui non ha detto qualcosa di importante ma l'arbitro ha deciso così a noi dispiace perché perdiamo un grande giocatore almeno per una partita e speriamo che non salti tante partite perché abbiamo bisogno di lui ma la squadra deve lavorare anche su questo il Napoli di stasera è da scudetto questo dovete dirlo voi noi lavoriamo per fare il maggior numero di punti diciamo di sì ma dobbiamo essere consapevoli che la strada è lunga ora c'è una gara molto importante con la Lazio sarà un test per la nostra mentalità proveremo a prendere punti questo Napoli è più forte del Napoli di Sarri che domande stupide che domande stupide ogni domenica mi hanno fatto questa domanda bravo io posso dire soltanto che è una squadra diversa il Napoli di Sarri è passato ora c'è Gattuso un po' più diretto e sta facendo punti dobbiamo solo dimostrare che abbiamo la mentalità giusta e prendere punti contro le grandi chi chi dedicava a mano l'ass Coulibaly non capiva nulla ma quando è arrivato Costa si ho dovuto adattarmi è stato un anno di transizione quest'anno abbiamo parlato sappiamo cosa fare l'obiettivo è prendere meno gol possibili se vuoi stare davanti bisogna avere la miglior difesa è il Napoli da stasera la mantiene la miglior difesa o no? la stavo appunto vedendo 12 meno 3 fa sempre 9 sempre primi la Juve a 10 quindi siamo sempre primi vabbè sempre miglior difesa del campionato ragazzi il Napoli perde 4 partite di cui una a tavolino e ha la miglior difesa del campionato incredibile eh? vabbè ragazzi questo però dovrebbe far capire molti di voi che avete insomma anche criticato questo Napoli questa squadra ha ancora giocatori di Sarri che hanno il trauma arbitri degli scorsi anni provate voi ogni anno per tutte le partite a subire gli arbitri e vedete come finite è il massimo e però bisogna togliersela dalla mente questa cosa ehm ci vorrebbe un atto eclatante eh l'atto eclatante come lo fa ehm Bernardo comunque non stiamo troppo a rimurginare voltiamo pagine guardiamo alla prossima anche difficile per stasera è andata così eh no stasera non si dorme lo sapete io ho il mio detto oggi oggi più che mai però è vero bisogna andare avanti però almeno stasera fatemi ecco intanto Ziliano ironizza su Bonucci Rizzoli Gattuso ha sbagliato gli arbitri non ospelli di quelli che vanno testa a testa vabbè ancora Conte eh abbiamo sofferto questa vittoria col Napoli vale il doppio insomma ancora continua a dire questa cosa eh Conte tanto ci porta i tre punti avanti e se ne frega lui andiamo al telefono pronto pronto Francesco ciao Cesare ciao Cesare ciao Cesare buonasera ciao Alberto ciao Cesare ciao Cesare non so che ci sei arrabbiato con insignia però tu dimmi una cosa lo richiedo anche a te hai ma cioè quanti va a fa o quanti vai a quel paese o vai a cagare sentiamo ma Francesco scusami io ti dico una cosa poi anche voglio dire io sto vado a calcio e tutti quanti chiedono l'ha mal detto mandato a fare il culo l'albitro io non credo che sia stato scusatemi che ve lo dico no no ma hai fatto bene a dirlo tanto è mezzanotte no ma io non credo che sia soltanto il mandato a fa culo non ci dimentichiamo alzame alzame un po' Cesare che lo sento eh infatti non si sente vai 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 allora io ti dicevo sì sì no la prima parte l'abbiamo capita vai avanti no dicevo che intanto sappiamo mi piace dove lo dire ma sappiamo in signe come si rivolge io non so io credo che lì ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a fare il capitano io sono eh lo posso dire tanto l'orario si può dire io sto letteralmente incazzato stasera perché sono forse tra quelli che e voi lo ricordate eravamo proprio in formazione come lo siamo ora che quando abbiamo perso con il Milan sono stato l'unico che ha difeso il Napoli sì sì è vero stasera faccio il contrario perché mi sono rotto le scatole siamo praticamente una squadra di pollastri io non voglio parlare Francesco mi dispiace non sono d'accordo con te non voglio parlare dell'altro il Napoli stasera ha perso e sono clamorosamente ve lo dico ha meritato di perdere perché non si gioca in quella maniera lì per un'ora a fare il pallettino non possiamo praticamente fare quella socchezza enorme in difesa e ne abbiamo fatti due perché l'Inter ha i campioni e se su due palle che tu sbagli una la butta dentro e con rigore la butta da dentro c'è rigore netto non ti ho detto che è rigore netto allora Cesare però mettiamo i puntini sulle i è calcio di rigore perché c'è un fallo di Ospina io sono d'accordo però ci sono due situazioni fatemi vedere un maledetto replay che non ho visto e io devo dare per scontato che non c'è il fuorigioco eh ma no eh no eh no Cesare voglio vedere eh no eh no Cesare il VAR il VAR vuole anche non vedere niente se non vuole vedere niente eh no lo so eh no 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 io voglio vedere fammi vedere il fuorigioco o non è fuorigioco però e questo è uno e punto due e punto due Massa senti che ti manda a fanculo il capitano del Napoli che giustamente è arrabbiato perché in testa sua forse crede che tu non sei andato a vedere il VAR soprassiedi gli dai l'ammunizione e fai battere il calcio di rigore 1 a 0 per l'Inter ma ci sono almeno altri 15 minuti da giocare 11 contro 11 eh seguimi Cesare perché questo è il problema no io ti seguo però Francesco questo è un arbitraggio scientifico vabbia a protettare in quella maniera vabbia ho capito Cesare ma allora se non dobbiamo neanche più protestare allora ci mettiamo come si suol dire su Pini e aspettiamo che queste squadre ci superano proprio nel Napoli e sai come il Napoli è tartassato sai che ti butta fuori tu sei un imbecille che ti fai spendere io sto incavolato nero ma poi anche con gli altri ma Francesco ma ovviamente chi si dice nel Napoli tutti i telefonati tutti su Pino Palo non ci sta uno che l'ha piazzata noi non abbiamo un attaccante che segna cioè io so poi la personalità perché non abbiamo giocato come negli ultimi 15 minuti perché non abbiamo giocato come negli ultimi No beh queste sono domande che ci dobbiamo porre però Cesare una partita che comunque il Napoli nel primo tempo subisce mezzo tiro di Lautaro Martinez che voglio dire spiazza è proprio per questo motivo ma devi schiantare io sono incavolato perché per me l'Inter scusami Francesco per me l'Inter è una squadraccia stasera il Napoli avrebbe potuto ma lo sai da quanti anni lo dico lo sai da quanti anni lo dico che l'Inter è una squadraccia ma quest'anno ancora peggio noi gli abbiamo fatto fare tre punti e poi vengono sempre sotto Natale gli facciamo il regalo di Natale eh questi sono dei veri e propri regali di Natale bravo l'espulsione a Milano prima con i balini poi vabbè sì sì dai quello sì hai capito? vabbè comunque io sono nero ma eh no lo siamo tutti lo siamo tutti sì hai ragione lo siamo tutti va bene vi saluto ragazzi ciao Cesare grazie ciao Cesare proviamo a fare un'ultima telefonata poi facciamo un giro finale non vedo altre dichiarazioni per ora credo che Gattuso non so se ha parlato però in conferenza perché fino adesso adesso non l'ho letto per ora non ho ancora notizie Conte ha parlato però insomma forse ce lo siamo persi no no mi pare proprio di no allora dai ultima telefonata poi ci sentiamo domani pronto sì buonasera sono Giuseppe buonasera a te ciao Giuseppe buonasera a te ho chiamato anche sì 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 vai dici la tua dai sono qui prima di tutto per incazzarmi per la possibilità che mi darei sempre di parlare e poi sono incazzato se sentite non ho nemmeno più la voce sono nervoso ho sbottato come un pazzo non è possibile che il nostro Napoli deve essere derubato in questa maniera non sono d'accordo con il telespettatore di prima che ha detto che il Napoli ha fatto dei tiri sul palo non è vero non sono d'accordo con il telespettatore di prima il Napoli ha fatto una tanta partita serie per bene il Napoli ha meritato di giocare le partite che ha fatto ha fatto grande partita per me il vigore non c'era era fuori gioco come dice anche lei lo voglio vedere io ho detto voglio rivedere un replay buono voglio vedere un replay buono per me era fuori gioco perché ho visto il replay e per me era fuori gioco io come tifoto del Napoli sono schifato è uno schifo perché il Napoli deve far sentire la sua voce noi possiamo parlare finché vogliamo anche lei può parlare finché vogliamo ma la società si deve far sentire deve mettere un comunicato a stampa sull'inefficienza della lega calcio e degli arbitri è una vergogna che il bar venga usato con chi decidono di usarlo e quando vogliono loro il bar si è stato messo per migliorare il calcio deve migliorare non distruggere il calcio io come tifoto del Napoli sono schifato la tifoto del Napoli voglio una spiegazione della lega calcio perché hanno avuto il bar a cosa serve questo bar serve per aiutare gli arbitri a evidenziare gli errori che loro fanno in campo ma io qui vedo che più c'è il bar più ci sono gli errori di quando non c'era quando non c'era c'erano degli errori clamorosi come anche Juve-Catania Juve-Golla annullata al Catania e adesso mi sembra che praticamente gli errori ci sono in triplo io non sono un tipo di criticare gli arbitri ragazzi sono una persona che non sono quello che vuole criticare gli arbitri perché dopo ci affilano dal nord dicono i napoletani si tirano in attenzione degli arbitri ma questa volta dobbiamo parlare per forza perché è uno schifo io voglio chiarezza voglio sapere la verità punto come stanno le cose lo dovremo forse un giorno o mai lo scopriremo grazie grazie allora secondo la moviola della RAI ci scrive Francesco Navarra la posizione potrebbe essere regolare ma senza farlo mai rivedere stiamo aspettando ancora le linee quindi insomma ecco è sul 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 sentito dire allora se è sul sentito dire anche io posso dire che è fuori gioco perché se è sul sentito dire poi se mi traccia la linea e mi fa vedere il VAR perché il VAR ha la linea per vedere che non è fuori gioco allora sì il problema è che non la tracciano perché di qua di giù ci sono almeno due giocatori dell'Inter in fuori gioco che sono sicuramente ininfluenti ma me la devi comunque tracciare la linea mai tracciata questo io continuo a dire il problema che la stampa napoletana e mi dispiace dirlo perché De Laurentiis è tanto amico dei giornali perché lui vive solo con i giornali parlo delle testate nazionali e delle locali ma lui vive per i giornali i giornali napoletani invece non parlano mai sempre zitti supini tutti quanti il problema è questo allora noi lo diciamo perché abbiamo forza per dirlo gli altri forse qualcuno sempre assoldati da questa stampa nazionale forse non parla non dice mai nulla purtroppo la stampa napoletana non fa quadrato l'unica cosa che fa è quella di criticare quando ha bisogno di criticare di far casomai anche nei siti un clic in più e oggi poi però quello che rimane arrabbiato siamo noi che siamo tifosi anche del Napoli ragazzi allora mezzanotte meno due minuti un minuto a testa per concludere vado da Max poi chiude Alberto dai sì Francesco sai come si dice a Roma quando si conclude un affare fra due persone che più o meno si conoscono famo affidasse capito nel senso che praticamente stasera noi con questo rigore dobbiamo vivere col famo affidasse cioè dobbiamo stare là e dire sì vabbè allora non c'era il fuorigioco ed è rigore perché a rivedere non si può rivedere Sky non l'ha fatto rivedere la Rai non lo farà rivedere Mediaset tanto meno e allora non c'è niente da fare le immagini sono sparite però Francesco io prenderei il buono di questa serata e mi auguro che Napoli possa ripartire dagli ultimi dieci minuti di questa partita e non fa niente se dovrà ripartire con Politano Lozano e Petagna io credo che quest'anno l'abbiamo detto il Napoli abbia una rosa talmente omogenea che anche diciamo non proprio i titolarissimi credo che possano non far rimpiangere quelli che sono sempre tra tantissime virgolette i titolarissimi va bene Alberto sono curioso di vedere adesso la sfida che si giocherà domenica a Roma sono curioso e sotto certi aspetti al di là proprio dell'impatto mentale che questa squadra spero avrà in maniera forte un po' come quello che si è avuto in quel famoso primo tempo post polemiche con la Juve contro l'Atalanta una squadra che entrò in campo vogliosa di voler fare risultato sono curioso di vedere quel tridente lì davanti che gioco forza per forza di cose adesso giocano Petagna Petagna Lozzano Politano con Llorente in panchina è l'unica soluzione che c'è senza nominare un altro attaccante che è fuori rosa spero vivamente che questa squadra possa fare quadrato su questo episodio e su questa gara credo che domenica possa essere in qualche modo anche la prova del nove perché un aspetto che questa squadra ha sempre fallito almeno in questa prima parte di stagione comunque ha mostrato molto debole l'aspetto mentale quindi spero vivamente che questa squadra possa riemergere sotto certi aspetti al di là della prestazione perché se poi il Napoli segna poco prima del rigore magari avremmo detto bravo Gattuso l'ha preparata molto bene nel primo tempo atteso l'Inter spero vivamente che sia così stasera c'è tantissimo amaro in bocca spero vivamente che si faccia sentire la società magari nei prossimi giorni ma dubito fortemente che ci sarà una un qualcosa del genere e spero vivamente che questo campionato non sia così come diceva prima qualcuno in una tv satellitare che il campionato in qualche modo sia già segnato da questa sfida allora Darmian dice sul rigore ho visto la palla a metà strada e mi ci sono buttato il napolista citiamo sempre tutti mette per ora la conferenza di Gattuso dice ho parlato con con Mertens addirittura dice sicuramente non sarà dei nostri con la Lazio dice alla caviglia molto gonfia sarà da valutare sicuramente nei prossimi giorni la sconfitta non ci stava abbiamo giocato con una candidata allo scudetto tecnica e che crea problematiche anche fisiche dobbiamo ripartire dalla prestazione nonostante il rammatico Lozano e Politano sono in una condizione fisica molto buona e saltano l'uomo Politano lo salta con abilità e tecnica Lozano a grande velocità e crea pericoli buono il suo impatto dal primo minuto l'altro giorno Matteo ha sofferto con la Samp e l'ho sostituito ma abbiamo tanti giocatori che meriterebbero di giocare dal primo minuto tre domande tre risposte sintetiche ormai è così la conferenza stampa del Napoli gli aventi diritto sì gli aventi diritto non c'è non c'è all'inizio come si chiama come si chiama la priority list priority list vabbè come ti piace dirlo a te ragazzi è mezzanotte 0-2 per chi ci sta seguendo ancora in diretta siamo live vedrete la replica noi ci vediamo domani io ripeto sono molto arrabbiato non si dorme mi dispiace ripeto vorrei vedere almeno un replay buono sul rigore che c'è l'ho detto mille volte non lo voglio giustificare non si espelle e si mette e si mette in ambascio una squadra in una partita che vale un pezzettino io non dico che vale lo scudetto ma un pezzettino questo sì vale sicuramente di questo scudetto massa ancora una volta scarso mediocre e in malafede purtroppo questo passa il convento non c'è niente da fare ripeto spero che ogni tanto la stampa napoletana faccia un po' quadrato lo dico ai giornali perché tanto a livello nazionale a noi non ci stanno a sentire però almeno i giornali almeno i colleghi che scrivono sui quotidiani ogni tanto dovrebbero dire signori ma c'è qualcosa che non va non so ma non ci credo se De Laurentiis parli non so come andrà a finire e mancano pochi giorni alla sentenza sul su Juventus Napoli è chiaro che da da ora mezzanotte e cinque dobbiamo cambiare pagina perché c'è da battere la faccia perché oggi parlavamo di quanti punti si potevano fare io mi accontentavo di due qualcuno diceva quattro oggi Peppe mi pare dalla Germania ha detto anche tre quindi oggi abbiamo buttato il bonus adesso bisogna provare a vincere con la Lazio che sicuramente non sta benissimo poi vediamo c'è l'ultima col Torino e vediamo un po' grazie 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 ad Alberto Caccia che ritroviamo venerdì ci ritroviamo e te venerdì saremo nel prepartita e ancora analizzeremo grazie a Max ciao Max ci vediamo presto ciao Max quando volete grazie a voi ciao 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 Max buonanotte a tutti grazie sempre a Marco Mennillo che oggi veramente ha fatto ultra straordinari con quante dirette e quanti cambi di anche di scenografico volevi anche rubarti il programma di Don Francesco oggi si ci ho provato un attimo ma era prima di questo Napoli Inter perché adesso veramente sono arrabbiato arrabbiato Nero continuerei per ore a parlare per sfogare la rabbia però vabbè grazie grazie ancora a tutti voi per averci seguito ci vediamo domani 15 e 30 come al solito e poi ancora venerdì ancora domenica ci fermeremo solo dopo Napoli Torino per un 7-8 giorni sperando almeno di riposare qualche minuto in questo Natale un po' particolare forza Napoli sempre grazie e non si dorme ciao ciao